è un concetto è un sistema questo è un progetto che ho presentato un po di anni fa a Giorgetti perché un po l'idea a me del divano organico che si muove all'interno dello spazio in un certo modo mi sembrava un'idea interessante poi come dire un'idea da chi produce divani speciali come dire da un'azienda di divani ma Giorgetti produce come dire un'idea di casa un'idea di casa speciale avevo presentato questo progetto però molto probabilmente era troppo presto a me succede di solito essere un po forse un po d'anticipo per cui ho rimesso mano a questo progetto l'ho attualizzato l'ho risistemato e mi è sembrato giusto ripresentarlo sono una serie di pedane a terra di penne addirittura molto molto elegante molto sofisticate che contengono dei cuscini degli schienari e hanno delle forme organiche morbide che tra di loro possono come dire creare delle composizioni estremamente interessanti e varie ci sono anche delle scese long e le aree dove si possa veramente fa una sorta di relax ti dico la verità a casa mia ho un divano profondo 150 140 150 perché è una via di mezzo fra un letto una scese long e vicino c'ho una pila di libri e una pila di riviste e ho i fogli da schizzo per cui molte volte mi capita di scarabocchiare di scrivere per me è una pratica assolutamente normale poterle pensare leggere e anche lavorare sul divano e forse anche mangiare per cui come dire ho trasmesso un atteggiamento che io di solito di solito faccio insomma che ho i colori sono quelli che generalmente usa l'azienda per cui colori sempre molto morbidi non troppo forti che esprimono come dire anche un'idea di calma di relax di eleganza e anche di un lusso ma molto molto controllato grazie